Arriviamo ora alla rubrica che realizziamo in collaborazione con il notaio Giorgio Amanzini. Gianni Montanari ci spiega l'argomento di oggi. Nello studio del notaio Giorgio Amanzini a Palazzo Massa nel centro storico di Reggio Emilia per parlare di possesso di beni ereditari. Per la verità un tema che avevamo cominciato ad approfondire in una precedente puntata ma ci sono altri elementi da mettere in risalto come ad esempio il diritto di abitazione. Però dottoressa Amanzini intanto ci riepiloghi quali sono i canoni sui quali si orienta la nostra legislazione in tema di possesso di beni ereditari. Il possesso dei beni ereditari è un requisito, una relazione materiale con i beni ereditari che può comportare un meccanismo automatico di accettazione dell'eredità. Che cosa significa? C'è una norma del codice civile che ci dice che nei primi tre mesi dalla morte di una persona anche se si è nel possesso dei beni ereditari possiamo rinunciare all'eredità senza compiere alcun'altra formalità. Era intervenuta però a questo riguardo la Corte di Cassazione che fino agli anni 90 aveva avuto un orientamento costante per affermare che anche nei primi tre mesi dalla morte di una persona la rinuncia all'eredità comporterebbe la necessità di redigere l'inventario dei beni ereditari perché ricollegandosi a un'altra norma del codice civile diversamente si è considerati eredi puri e semplici. Bene, dottoressa Amanzini, allora soffermiamoci su questo tema del diritto di abitazione che ovviamente ha delle specificità e ci sono anche delle novità, ci diceva. Certo, infatti proprio in relazione a quanto ho detto qual era il problema? Il problema nasceva proprio dal possesso dei beni ereditari da parte del coniuge superstite, cioè muore un coniuge, l'altro coniuge rimane nella casa adibita a residenza familiare, che sia del defunto o di entrambi e questo recentemente fino al 2014 veniva considerato dalla giurisprudenza come possesso di beni ereditari, quindi la prudenza imponeva a noi notai di consigliare anche al coniuge che volesse per esempio rinunciare all'eredità nei primi tre mesi dalla morte dell'altro coniuge di redigere l'inventario per non perdere il diritto di rinunciare all'eredità o di accettare l'eredità con beneficio di inventario. Che cosa è cambiato recentemente? Si è espressa la Corte di Cassazione sia nel 2015 che nel 2016 stabilendo che questo diritto di abitazione riconosciuto dalla legge al coniuge ha una natura del tutto particolare di legato ex legge e cioè è un'attribuzione stabilita dalla legge a favore del coniuge superstite del diritto di abitazione vitalizio per tutta la vita di questo coniuge che rimane sulla casa del defunto o di entrambi e diritto di uso dei mobili che la corredano. Nessuno cioè può chiedere al vedovo o alla vedova il pagamento dell'affitto o di abbandonare la casa coniugale e neppure nessun altro erede può andare a svuotare la casa coniugale dei mobili, dei quadri, dei superlettili e quant'altro. E per quanto riguarda le unioni civili? Per le unioni civili è stato chiarito che l'articolo, questa norma del codice civile, l'articolo 540 secondo comma è ugualmente applicabile. Ricordiamo cosa sono le unioni civili. Sono una sorta di matrimonio, qualcosa di assolutamente analogo al matrimonio se non fosse che avvengono fra due persone dello stesso sesso. Quindi anche al partner supersite di questi uniti civilmente spetta il diritto di abitazione sulla casa della coppia e il diritto di uso dei mobili. Questo diritto non comporta, abbiamo detto secondo l'ultimo orientamento della Corte di Cassazione, possesso dei beni ereditari e dunque il supersite, il coniuge supersite o l'unito civile può in ogni caso rinunciare all'eredità e conserva ugualmente questo diritto di abitazione e di uso dei mobili. Perché è un diritto che prescinde dalla vicenda successoria ma è attribuito dalla legge indipendentemente. E parliamo anche dei conviventi, parenti o non, che vivono nella stessa casa. Certo, la legge Cirinna ha chiarito che le convivenze di fatto che possono riguardare sia persone eterosessuali che persone omosessuali hanno comunque natura moreuxorio e cioè la legge dice che è una convivenza che comporta una relazione affettiva e assistenza morale e materiale fra soggetti indipendentemente dal sesso non legati comunque da vincoli di parentela, affinità, coniugio o unione civile. Dunque sono le vecchie convivenze di fatto moreuxorio che già esistevano. Diverso è il caso dei parenti, per esempio fratelle e sorella che convivono. In questo caso il loro regime giuridico è quello della parentela, cioè non è previsto per loro questa normativa delle convivenze di fatto.